Noi bisogna fare casa, perché il campo che sta a noi prima è già chiuso. Noi vengono qua per parlare con il sindaco, perché noi bisogna a casa. Non posso vivere nelle stazioni, noi sono opressioni, non c'è nessuno che sta qua che è matto. Non c'è nessuno che sta qua che è matto. Tutti stanno bene, però non c'è lavoro, non c'è possibilità per prendere affitti, per prendere la casa. Con questo noi vengono qua per parlare con il sindaco, per favore. C'è uno posto, c'è una casa, apre uno per noi, domini qua. Tutti i guardi, tutti noi che stiamo qua, c'è un futuro. Con questo domini la stazione, domini la strada, non posso andare più avanti con il futuro di noi. Con questo tutti noi che stiamo qua vengono per chiedere per favore del comune, per dare a noi d'aiuto. C'è capito che questo noi stiamo qua. Non è per stare qua per fare guerra o per fare casino, non. Solo per favore del sindaco, per dare a noi d'aiuto. Perché uno, quanto qualcuno, un uomo, non c'è a casa, non c'è dove dormire, non c'è dove riposare testa. Non posso pensare una cosa buonissima. Non posso andare alle stazioni, dire vino, dire whisky, non. Noi vengono qua per uno futuro bene. Non è per venire qua per lasciare le mesi strade, le stazioni. Non va bene così. Con questo noi vengono qua, per dare a noi d'aiuto. Perché il campo che sta a noi prima, è chiuso. Adesso posso andare alle stazioni e dormire. Grazie. Grazie.